Rubano il rame e poi si danno alla fuga con il bottino, speronando l'auto della vigilanza privata. Sono stati attimi di tensione, quelli vissuti la notte scorsa da una guardia giurata, giunta sul posto dopo aver ricevuto l'allarme dalla centrale operativa. È accaduto intorno alle 2.30 nella ferramenta Arturo Mancini, in via della Pineta, nella zona dell'ex zuccherificio a Fano. I malviventi, si ipotizza 3 o 4, nel giro di 15 minuti hanno arraffato tutto il rame possibile. Appena arrivata la guardia in servizio ha notato subito uno dei ladri che stava aprendo il cancello, con il motore manomesso, quando dal fianco dello stable è uscito a gran velocità un camion Iveco Daily, di colore bianco con cassone a sponde alte. Il mezzo ha speronato l'auto nella parte anteriore destra facendo scoppiare la gomma. I malintenzionati sono così riusciti a darsi alla fuga, dirigendosi verso la statale adriatica. A quel punto, oltre ad uno dei responsabili della ditta, sono state avvisate anche le forze dell'ordine. Nell'immediato sono intervenute sia le pattuglie dei carabinieri che della polizia. In seguito, grazie alla denuncia di furto, si è scoperto che il camion era stato rubato alla ditta Centro Ventilazione SRL, poco distante, sempre nella giornata di oggi. Poi l'azienda si stava adoperando per effettuare una stima dei danni. Secondo un dipendente, la refurtiva si potrebbe aggirare attorno a 10-15 mila euro. Ora, con l'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, si cercherà di risalire agli autori del colpo.